Sì, bravo. E quando ci arriviamo al confine? Sono a sega io. C'è avuto un incidente, dimmelo. Ha buscito cose più importanti della macchina, capito? Senti, lascia perdere cose importanti e tu non sei buona a fare nemmeno quelle normali. Fammi finì. Oh, guarda lì come mancia! Ricordati, Mau, bisogna essere come pescini in acqua. Confondersi fra la gente comune. Confondisi, ma mi vedi sempre un malato di me. Poi dove vai, oh? Siamo in Austria. Dore, ci siamo. E poi è il paese democratico. Democratio? Ma se c'è il nato lì tra i nostri, oh! Vai, 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 vai. Che faccio? Mi sembrano gli oggettivi un po' sospetti. Cazzo, ma di cazzo! Vai, vai, vai! Ma che si fa? Si smette di sona, eh? Senti, la situazione è lì come... Ma qui c'è un sole spacca di pietra. Si sta bevendo qualcosa e si pensa ad andare male. Perché sono scappati? Sembrerebbe che i tre ragazzi hanno fatto una dichiarazione... ...confusa. Tre coglioni. Appisa. Continua a prenderci per il culo peso? No! Sì.